Roberto Macrelli, grandi soddisfazioni al ritorno dei campionati mondiali? Sì, un'ennesima vittoria dell'Accademia Arti Marziali di Rimini e anche di Forlì, visto che abbiamo portato anche degli atleti da Forlì e abbiamo piazzato una medaglia di bronzo ai recenti campionati del mondo di MMA, della IMAF governata e controllata dall'UFC e una medaglia d'oro al UFC Special Guest che si è tenuto a Las Vegas, quindi due grandi vittorie che culminano con una grande soddisfazione che è stata quella di piazzare Fucchi Giacomo nel grande circuito americano in una grande palestra come quella di Renzo Grace Academy che combatterà adesso nel prossimo anno 2015 in questi grandi circuiti americani come l'UFC, il Bellator e l'EFC, grandi circuiti, quindi un grande atleta Gianni Tagliera, stato vice campione d'Italia nel 2011 di MMA che adesso invece approda il circuito professionistico americano. Giacomo allora raccontaci questa tua esperienza negli Stati Uniti Sono partito a marzo per intraprendere questa avventura e mi sono recato nella città di New York dove ho visto inserzioni su internet di questa palestra e niente, io sono andato lì, ho cominciato a allenarmi un giorno è arrivato questo ragazzo che è uno, tra l'altro è un mio amico però anche un mio training partner è uno dei ragazzi del Glory, è una federazione internazionale di Muay Thai, è il secondo top ranked, diciamo il secondo migliore al mondo mi ha visto, ha detto che comunque non ero del tutto scarso, ero abbastanza bravo e niente, ho cominciato a allenarmi con lui Poi dopo da cosa nasce cosa, ho cominciato ad allenarmi con dell'altra gente, sempre più forte, sempre più forte e alla fine, verso ottobre, hanno deciso che comunque sarebbe meglio per me di combattere in America diciamo di cominciare forse una futura carriera, non si sa Io vado lì a gennaio nel 2015 e vedremo cosa accadrà, adesso sicuramente sarà molto difficile perché il terreno americano è molto più tosto di quello italiano ho sempre combattuto in Italia, mai fuori Italia, però alla fine mi sono allenato nelle palestre con questi grandi campioni e diciamo che mi sono fatto valere, le ho prese ma le ho anche date e niente, mi sono piaciuto, adesso vediamo come andrà